Segretario, la Lega ha presentato le sue proposte sul lavoro, però ha detto che non si può rilanciare il lavoro senza discutere i vincoli europei. Quali sono questi vincoli europei che frenano ancora l'aumento dell'occupazione? In primis l'euro. L'euro è una moneta criminale non ridiscutendo la quale non si può rilanciare il lavoro, gli stipendi, l'agricoltura, il commercio. Quindi azzeramento dei vincoli e dei trattati demenziali europei a costo di uscire dall'euro che sarebbe solo un vantaggio per le nostre imprese, per i nostri lavoratori, per i nostri disoccupati che altrimenti rimangono disoccupati per i prossimi dieci anni. Poi alcune idee molto concrete con copertura economica a differenza delle proposte di tutti gli altri. Quindi equiparazione fra dipendenti pubblici e dipendenti privati, quindi anche il dipendente pubblico venga pagato in base al merito e alla produttività e se qualcuno sbaglia anche nel pubblico finalmente paga. Poi penalizzazione delle banche che non fanno prestiti. A imprese e famiglie con l'aumento della tassazione sulle banche che fanno speculazione e che non prestano, cosa per la quale sarebbero nati. E contabilità zero per tutti gli autonomi e le imprese con fino a 250.000 euro di fatturato. Sono alcuni provvedimenti a costo zero che però aiuterebbero le imprese, aiuterebbero il rilancio dell'economia. Ripeto, senza togliersi dal collo e dalla testa i folli vincoli imposti dell'Europa però non si va da nessuna parte. Purtroppo di questo né Renzi, né Grillo, né Alfano fanno il minimo accenno. Le misure annunciate per ridurre il cuneo fiscale sono insufficienti? Barzellette. Se uno non mi dice dove prende i soldi e come ridiscute i vincoli europei sono solo barzellette. Le nostre sono proposte concrete, attuabili da domani mattina che porterebbero a qualche centinaio di migliaio di posti di lavoro in più nel giro di qualche settimana. In conferenza è stato detto che Milano è la capitale del lavoro, i dati relativi alla provincia di Milano proprio di questa mattina parlano di 21.000 licenziati e 55.000 cassi integrati in quella che è la capitale del lavoro. Urge che la tempistica sia molto stretta in quanto ritenete che si possa procedere con già dei risultati? Queste sono proposte in un governo serio, certo non un governo che sta dietro ai casi De Girolamo, Cancellieri, Letta o Renzi. Queste sono proposte che in una settimana possono essere portate a casa a costo zero. Aggiungo qualcosa di più, la diminuzione dell'IVA secondo i nostri dati porterebbe più soldi nelle case dello Stato e farebbe ripartire i consumi. Purtroppo a Roma ragionano solo di nuove tasse, noi invece scommetteremo sul fatto che facendo pagare meno tasse pagherebbe più gente e anche lo stesso Stato incasserebbe di più. La tenuta del governo, ieri Renzi ha detto che sono 15 giorni decisivi e lei è parso abbastanza scettico sulla possibilità che si possa proseguire. Insomma litigano su tutto e su tutti, quindi non vedo come da questo governo tenuto insieme con lo scoccio, con il Vinaville, onestamente possa venire fuori qualcosa di buono. Come Lega, seppur all'opposizione potremmo solo gridare allo scandalo e far casino, invece ci mettiamo a proporre qualcosa di concreto per la nostra gente perché la metà della gente che ci ferma in che strada chiede lavoro, non chiede la legge elettorale, lo IUSSOLI, la cancellazione della BOSSIFINI o amenità di questo tipo, chiede lavoro e le proposte della Lega sicuramente porterebbero più posti di lavoro. La Lega è pronta ad andare a votare domani mattina, non abbiamo paura, anzi i sondaggi sono positivi e l'aria in giro è positiva. Detto questo, le elezioni europee per noi sono così importanti perché l'Europa ormai decide della vita e soprattutto della morte di tutti che vorremmo che si parlasse solo di Europa, solo dei vincoli folli dell'Unione Sovietica Europea. Io ho visto che oggi Squinzi ha rilanciato l'idea che uscire dall'euro sarebbe una follia, uscire dall'euro sarebbe una follia per quelli che hanno aperto le aziende in Cina, questo sicuramente, uscire dall'euro per chi invece ha già chiuso la sua azienda, vorrebbe riprendere, esportare, lavorare, uscire dall'euro sarebbe solo un vantaggio. Sappiamo che avremo le banche, la grande industria e la finanza, nemici, da questo punto di vista però ci frega poco. Se ci andassi a votare, anche per il politico dovreste valutare delle alleanze, c'è all'ordine del giorno questo? All'ordine del giorno c'è che alle elezioni europee la Lega si presenta da sola, da nord a sud, alleandosi con alcuni partiti autonomisti e indipendentisti da nord a sud. E io sono convinto che il governo non andrà a casa perché il governo sta lì fino a che Bruxelles non sarà soddisfatta, ovvero sia fino a che non verranno messe sul mercato sotto prezzo le ultime aziende sane rimaste in Italia, Eni, Eni, Enel, Finmeccanica, Fincantieri, Ansaldo, quindi io sono convinto che questi governi siano nati a Bruxelles e moriranno quando Bruxelles deciderà e non è domani mattina. Alle elezioni amministrative libertà di scelta per tutti, ovunque e comunque, quindi in alcune realtà la Lega andrà da sola, come a Cremona, in altre realtà andrà con liste civiche, in altre realtà andrà col centro-destra, ma non c'è nessun vincolo di alleanza per nessuno, sono i territori, c'è un movimento autonomista mica peraltro, ognuno sceglie che cosa fare a casa sua. Senti un'ultima cosa, mi sembra di aver capito che fare le campagne elettorali europee anche a sud. Assolutamente sì, abbiamo già in agenda diverse presenze al sud, anche organizzate, perché la campagna Un'altra Europa è possibile fuori dall'euro coinvolge molti e molto, e quindi su questo investiremo tutte le energie che abbiamo. Quindi liste anche al sud? Liste anche al sud, c'è gente su Facebook che dice come faccio a votarvi a Roma, a Taranto, a Palermo, a Napoli, e ci potrà votare, ci sarà il simbolo della Lega in tutta Italia. Anche in Sardegna? Anche in Sardegna, non alle elezioni regionali, perché sono domani mattina alle elezioni europee, faremo lo sforzo di essere presenti ovunque, perché la battaglia contro l'Europa delle banche è molto sentita anche al sud. Senti, invece riguardo le primarie di coalizione, voi siete sempre dell'idea che il nuovo leader nel centro-destra va scelto con primarie, come vedete Totti? Chi? Totti. Totti, ah! No, 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 per carità di Dio, no, lungi da me voler elezionare, non lo conosco, lo conosco come giornalista, mi sembra un bravo giornalista, però poi valuteremo la proposta politica, ripeto io, il chi? Noi chiediamo per fare cosa? Ci siamo già alleati tante volte col centro-destra portando a casa poco. E quindi quando Totti verrà a spiegarci qual è il programma che parla di indipendenza della Padania, allora noi saremo contenti di concorrere con Totti nel nome dell'indipendenza. però primarie con Totti? Primarie, certo. Contosi? Contosi, contosi contro Totti. Figata. Ma quindi il simbolo al sud sarà comunque Lega Nord e non ci saranno altri movimenti? La Giussano c'è, la Lega Nord c'è, però stiamo valutando la possibilità di inserire da Bolzano alla Val d'Aosta, passando per Cagliari, Palermo e Lecce, anche eventuali altri simboli di persone che ci stanno a fare la battaglia, che a livello europeo faremo col front nazionale della Le Pen, con gli austriaci, con gli olandesi, con i finlandesi, quindi a livello europeo siamo già ben strutturati e in controllo alla Le Pen dopo domani, a pranzo a Strasburgo. A livello italiano chi ci sta è il benvenuto.